illustriamo adesso la opzione modalità messaggi corti la prima presente in modalità operative ecco questa modalità diciamo che ci protegge dalle mail e ripeto solo dalle mail sono quelle che possono avere i messaggi potenzialmente più lunghi e quindi ci possono tenere lungamente diciamo sotto recitazione a questo punto di default in effetti c'è un limite la metà alta messaggi corti vedete parte di default è attivata e ci limita a 100 caratteri qualora il corpo del messaggio la parte text il corpo dell'immense è più lunga di 100 caratteri beh verrà recitata solo la prima parte della mail e poi verrà detto in fondo messaggio troppo lungo ecco per se volessimo ovviamente cambiare questo limite possiamo cliccare lungamente sull'opzione e ci verrà data la possibilità di aumentare o diminuire il numero di caratteri ecco vedete c'è un minimo di 10 fino al massimo di 500 ecco vediamo cosa succede qui mi sono già mandato per non stare a attendere due mail di prova la prima con il classico nostro ben noto lorenipsum la prima che mi sono mandato qui mail di prova lo dirà tutto poiché avevo disabilitato messaggio gmail da marius pelix mail di prova lorem ipsum dolor sitamet consectetur adi piscielit sedeiusmo de tempo rincidun tut labore dolore magna aliqua utenim adminim veniam quis nostrum exercitazione mulan corporis suscipit laboriosam nisi uta liquidex e accomodi conseqatur tenete conto che ovviamente stiamo usando google sintesi vocale in italiano l'ha pronunciata assolutamente in italiano per quello che ha potuto adesso sentiamo l'altra ultima mail che mi sono mandato nella quale avevo attivato l'opzione di messaggi corti e quindi verrà troncata messaggio gmail da marius pelix mail di prova 2 lorem ipsum dolor sitamet consectetur adi piscielit sedeiusmo de tempo rincidunt messaggio troppo lungo ok